Calcinelli torna ad essere la capitale del gusto con la seconda edizione dello Street Food Festival da chi ha organizzato l'evento e che cosa prevede? L'evento è organizzato dall'associazione Gente di Strada con il patrocino del comune di Colli al Metauro dopo il grande successo dello scorso anno abbiamo deciso di riproporre questo festival dello street food nel quale sarà possibile degustare prodotti provenienti da varie regioni d'Italia avremo la bombetta pugliese, ci sarà la pizza fritta napoletana e ci saranno anche delle tipicità più della regione marca avremo il pesce fritto, l'oliva alla scolana oltre a diversi track che si occuperanno delle bevande con anche birre artigianali sia italiane che europee L'evento si svolgerà a Calcinelli in piazza Pio Franchi dei Cavalieri da giovedì a domenica all'orario di cena e tutte le sere saranno accompagnate da musica dal vivo mentre sabato sera invece ci sarà un DJ per mangiare allietati con della buona musica Rispetto all'edizione dell'anno scorso, quest'anno saranno presenti più track per cibo e bevande quindi vi aspettiamo a Calcinelli da giovedì a domenica Calcinelli da giovedì a domenica